Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha disposto un accesso ispettivo antimafia al comune di Bova Marina. La decisione è stata adottata al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso. Lo ha reso noto, con un comunicato stampa, la stessa prefettura di Reggio Calabria. La commissione si è insediata ieri ed è composta da Emilio Saverio Buda, dirigente di seconda fascia della prefettura, Enrico Palermo, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Francesco Picone, funzionario informatico. L'accesso ispettivo è stato disposto dopo che il Consiglio Comunale di Bova Marina era stato già sospeso con provvedimento prefettizio del 30 dicembre 2016 ed era stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio a seguito dell'irrevocabilità delle dimissioni presentate dal sindaco Vincenzo Crupi. Il primo cittadino di Bova Marina aveva presentato le dimissioni il 9 dicembre scorso in seguito al suo coinvolgimento all'inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti che l'aveva visto finire agli arresti domiciliari.